47 gli anziani che hanno sporto denuncia, ma sono centinaia quelli che sarebbero stati tratti in inganno dalle telefonate di alcune società di teleselling, vendita telefonica, sottoscrivendo a loro insaputa contratti per la fornitura di energia elettrica, scoprendo quanto avevano fatto solo al momento del ricevimento delle prime bollette. Ha aperto un fascicolo d'indagine la procura di Padova che si prepara a chiedere rinvio a giudizio per una coppia di Cadoneghe di 57 e 55 anni, soci dell'azienda tra l'altro tra i main sponsor del calcio Padova. La coppia che in questi mesi ha risarcito quasi tutti gli anziani truffati, tanto che la maggior parte ha rimesso la querela, spera in un esito diverso del procedimento. I due hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di alcune agenzie di mediazione specializzate nella ricerca di clienti attraverso gli operatori telefonici.